È una posizione assolutamente netta quella del noto pediatra retino Italo Farnetani sul fatto di poter vaccinare contro il Covid i bambini sotto i 12 anni, una possibilità che adesso è all'orizzonte. Ritengo che entro Natale arriverà questo vaccino e sarà il più bel regalo di Babbo Natale perché la fascia di età che corrisponde a 3 milioni e 600 mila di bambini italiani senza il vaccino rischiano 51 mila casi di Covid con 8.500 classi in quarantena e soprattutto in questi 3 milioni e 600 mila ci sono 12 bambini condannati a morte perché il Covid anche se colpisce in modo più lieve i bambini determina gravi complicanze. Noi abbiamo avuto dall'inizio della pandemia 35 soggetti di meno di 19 anni dalla nascita a 19 anni che sono morti da Covid perciò bisogna vaccinare il più possibile soprattutto i bambini più a rischio sono quelli che devono fare prima degli altri il vaccino. Noi la poliomielite che oggi non esiste più l'abbiamo sconfitta proprio grazie al vaccino perché era una malattia la poliomielite che è molto analoga all'andamento dell'attuale pandemia. L'abbiamo sconfitta e invece noi abbiamo oggi gli strumenti che sono un vaccino moderno efficace che dà una grande protezione e un ridotto numero di complicanze e non lo pratichiamo. Anche la polemica fatta sui casi di miocardite è pretestuosa e infondata scientificamente in quanto la miocardite è una malattia diffusa anche nel bambino normale con una presentazione clinica molto varia per cui non si sa quanti casi ci siano per cui non posso confrontare un caso di miocardite dopo il vaccino rispetto a un valore che non so nella popolazione normale. E sa quali sono i vaccini pericolosi? Quelli che non si fanno.